ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi blissim italiana di giugno 2024 dunque intanto che l'app scusate ma già così è bellissimo una scatola fatta a vaso molto carina intanto che l'apro vi ricordo 16 90 il valore della box ed è 10 per cento di sconto con il link qui allora andiamo ad aprirla noi parliamo di quella italiana mi sono già preparata con il qr questa volta quindi sono pronta e andiamo a vederla ok ecco qua un po grande un po piccolo un po correre aspettate allora ho messo in pausa per il corriere e mi sono accorta adesso che abbiamo un ospite oggi tutto costa ok torniamo alla nostra box allora partiamo alla sinistra andiamo a destra perché non saprei allora prendiamo quelli grandi intanto questo è cadalis latte corpo nutriente sos ok 99,5 per cento ingredienti di origine naturale la confezione è un 100 ml quindi è un full size e 9 euro e 90 il valore vediamo se aperta per il profumo è chiusa ma delicatissimo comunque se è leggera idratante ma comunque sia ed è leggera che serve velocemente per questo periodo va benissimo e poi andiamo avanti a questo punto con questo che piccolino ma vediamo polar adoro la confezioncina così rosa porti atti spruccante clean simbalm e bassamo spruccante ai snow cotton fiocchi di fiocchi di cotone non sali niente e andiamo a vedere perché questo è un ok è un trabri size ma formato vendita è un valore di 5 euro e questo sapete che gli struccanti li metto subito come test e anche lui fa subito come test poi abbiamo nux questo ne ho sentito parlare nux air prodigio shampoo brillante air shine 30 ml e questo lo proviamo sicuramente valori di 5 euro non ho sentito parlare perché l'ho visto in vendita in diversi diversi shop online ok dovrebbe essere super illuminante e proviamo a e comunque dice che è un gift gift offert quindi sarebbe un traversal se non vendibile poi andiamo con questo che non so che cos'è androcosmetic serum vitamin e vitamina in siero 10 per cento di vitamina c ok bonnmine healthy glove 100 per cento d'orgia naturale è un full size 30 ml ok la vitamina c in estate mi piace tantissimo andiamo a vedere come questo tanto poi lo userò colore arancione aspettate ha un profumo fruttato allora ha un colore arancione che resta arancione che resta arancione ma calato io sto spandendo ok stavo leggendo ed effettivamente è giusto comunque un colore leggerissimo forse lo vedete un pochino da qui ed effettivamente dice bonnmine aspettate che traduca è un effetto colorato bonnmine immediato grazie a l'extantine altamente concentrato di vitamina c e sia illuminante che ravviva l'incarnato ok ma sapete che verso l'estate con il caldo quando non andiamo applicare sopra fondotinta o altro può anche piacerci ma noi lo testiamo ma io non ho detto il prezzo questo è un full size da 30 ml e viene 26 euro e poi concludiamo con l'ultimo mac lip gloss brillante all'estrata trasparente è un 15 ml si lip gloss valore 25 euro andiamo a l'estrata trasparente mamma mia è appiccicosissimo appiccicosissimo però da un effetto specchio eccolo qua che ad esempio con sopra una matita una matita e poi questo e ne può fare un bel effetto molto 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 che è un full size sempre full size abbiamo il latte corpo nutriente e sempre full size abbiamo questo siero della andro poi abbiamo i travel che abbiamo lo shampoo capelli della nux ed è per finire a finire vero sì il polar che è il detergente il balsamo struccante valore circa 70 euro considerando che la box costa 16 90 è niente male a questo punto fatemi sapere voi che cosa ne pensate è bellissima anche la box a mio avviso io come sempre spero di essere utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao